Pepsi ti invita al Pepsi Beat on Stage Tour La migliore musica hip hop dal vivo ti aspetta mercoledì 21 maggio all'Arenile di Napoli con Rocco Ant In apertura le sfide one to one dei rapper di Pepsi Beat on Stage Non perderti il live di Rocco Ant al Pepsi Beat on Stage Tour 21 maggio Arenile, Napoli Hip Hop TV Pass, lo spazio riservato ai nuovi talenti Tutti i giorni 4 appuntamenti con il meglio della musica emergente italiana Vuoi proporti? Posta il tuo video su facebook.com slash hipoptvitaly Ed entra per una settimana in alta rotazione sul canale Hip Hop TV Pass, la musica nuova suona su Hip Hop TV Ripartiamo alla grande, ospite Fred De Palma, questo è Made in Italy, io sono Space One E album di Fred De Palma in uscita e in free download su sito Rocha Music Lettere al successo, non perdetevi le puntate neanche le repliche perché magari se vi siete distratti in alcuni frangenti e ve li rivedete con la replica Non smettete di seguirci, made in Italy su Hip Hop TV Hip Hop TV, solo su Sky, canale 720 Undo snifro e così ditù Non smettete di favore da spazio della musica Notificato known Che è superfluore sul canale E molto comande E molto comportando è inizia E moltoute E molto comande